Vediamo subito i gol di questo divertente pareggio tra Fiorentina e Milan, anzi, gli autogol. 44esimo del primo tempo, l'autogol di Chiodi sul tiro di Orlando. 34esimo della ripresa, l'autogol di Desolati sul tiro di De Vecchi. Ora le immagini tornano all'inizio della partita, alla pressione cioè senza gol della Fiorentina nella prima mezz'ora. E mentre si guardano le immagini, riflettiamo pure sugli autori dei gol alla rovescia, Chiodi e Desolati. Sono le uniche punte delle due squadre e si agiscono in difesa, ci dicono molto sulla mentalità poco vincente che hanno sia Carosi sia Giacomini. Eppure sono bravi, eppure sono usciti da Coverciano. E così forse si possono anche spiegare i comportamenti delle squadre in campionato. Ma veniamo alle cose più belle del primo tempo. Il tiro di Antonioni, l'unico personale. Lo splendido colpo di testa di Romano. E l'autorete di Chiodi. Nella ripresa, su tutti è emerso Galli, autore di parate precise e di interventi efficacissimi. Il Milan ha colto anche un palo con Collovati, durante la pressione costante facilitata anche dalla mossa di Carosi, che togliendo il centrocampista Restelli, per il difensore Ferroni, ha facilitato il recupero agli avversari. La Fiorentina, alla trentesima, aveva sferato il raddoppio con Pagliari. Perduto altre occasioni, agendo di rimessa. E proprio quando sembrava che Galli fosse insuperabile e il filtro difensivo avesse ragione, ci ha messo lo zampino Desolati, perché giustizia fosse fatta. E giustizia, cioè di nuovo, è stata.